Partiamo dalla riete. Anche oggi potrete approfittare di una buona giornata, anche se un po' meno brillante. Tutto andrà nel migliore dei modi, sia che abbiate in programma di scalare montagne o di dormicchiare sul divano. Toro, ottima giornata quella che vi aspetta, dove sarete sereni, allegri e anche fortunati. Qualsiasi cosa abbiate in programma andrà come vi aspettate, nessuno vi darà buca all'ultimo minuto. Gemelli, oggi cercate di non fare nulla di particolare, non uscite dal seminato, qualsiasi variazione della routine la dovrete pagare a caro prezzo. In più il vostro umore non sarà molto sereno, quindi niente pazzie. Cancro, oggi non vi importa non avere tutto sotto controllo, potrete fare delle nuove conoscenze, approfondire le vecchie e ascoltare notizie inaspettate. In amore non abbiate fretta. Leone, oggi potrete divertirvi, ma dovrete fare più attenzione al lato pratico della vostra esistenza. Non potrete prendere e partire se non avete l'auto o i biglietti del treno, o se la bici avrà le gomme bucate, insomma, dovete pensarci prima alle cose. Vergine, vi sentirete in forma e pieni di energie, ma soprattutto di buon umore, disponibili verso il resto del mondo. Qualsiasi cosa abbiate in programma oggi, riuscirete a realizzarle. Bilancia, oggi cercate di prendervi una pausa dalle mille incombenze della giornata. Lasciate perdere i vostri doveri familiari e dedicate del tempo a voi stessi. Fate insomma qualcosa che vi piaccia e che vi rilassi. Scorpione, oggi il vostro umore sarà molto più tranquillo e rilassato dei giorni scorsi. Avrete voglia di divertirvi? Se dovete esorbirvi i parenti, troverete il modo per defilarvi in tempi record. Sagittario, oggi non sarà un sabato molto divertente. Nella migliore delle ipotesi vi salteranno tutti i programmi. Cercate di non essere troppo aggressivi con chi vi sta vicino e dedicate la serata solo a cose piacevoli. Capricorno, oggi vi sentirete bene e carichi di energie. Qualsiasi cosa abbiate in programma riuscirete a farla come volete voi. I rapporti con il resto del mondo saranno buoni, persino i parenti vi sembreranno meno noiosi del solito. Acquario, oggi potrete godervi una giornata, se non troppo tranquilla, almeno piacevole, in cui non andrete nel panico se vi cambieranno i programmi, anzi ne approfitterete per fare cose molto più interessanti. Pesci, oggi farete fatica a controllare i vostri nervi ballerini. Ogni occasione vi sembrerà buona per fare una bella scenata, controllatevi. La serata dedicatela a voi stessi e ignorate ogni altra cosa.